ciao ciao a tutti bentornati nel mio canale oggi unboxing in collaborazione con il sito vi mostro cosa ho scelto in collaborazione questa è la packing list il risiconto di tutti i prodotti appunto scelti dal sito come vedete ho scelto 7 prodotti per questa collaborazione in questo video vi mostro i primi 5 prodotti in un altro unboxing vi mostrerò altri due prodotti che sono appunto nuovi sul sito e quindi voglio dedicare un video a parte su quei due prodottini adesso vi mostro i primi cinque prodotti perdonate il rumore di sottofondo ma il canale vicino ogni volta che registro si fa avvenire una crisi di nervi quindi scusate il rumore di sottofondo tra l'altro sto registrando anche con un nuovo smartphone quindi spero che sia ottimale e che sia buona come risoluzione e sto facendo alcune prove per capire anche il funzionamento perché questo proprio è arrivato ieri il cellulare quindi sto un attimo capendo le impostazioni e tutto non acceso il flash spero che sia anche ci sia anche un'ottima luce sono proprio vicino alla finestra speriamo bene per quanto riguarda bb craft vi ricordo che bb craft ha sempre un codice sconto per i miei iscritti che giulia 0 5 per avere 5 dollari di sconto al fronte di un ordine minimo di 40 dollari quindi se effettuate un ordine di 40 dollari avrete appunto 5 dollari di sconto adesso vi mostro i prodotti il primo prodotto che vi mostro ovviamente la mia fissa del momento lo sapete benissimo qual è è quella delle fustelle quindi questo è il primo prodotto che ho scelto dal sito questo è il codice ovviamente tutti i prodotti ve li lascio anche giù in descrizione insieme al codice sconto questo è un kit di fustelle aspettate che ve lo apro e ve le mostro in dettaglio all'interno sono presenti esattamente quattro fustelline con quattro quattro scritte differenti allora la prima che vi mostro è questa qui che era scritta appunto thank you e anche abbastanza grandicella con alcune decorazioni qui laterali ed è davvero molto molto carina poi c'è anche valentine day dovrebbe essere questa perché sono scritte ovviamente al contrario sempre con varie decorazioni molto carina poi questa questa dovrebbe essere good time leggo bene sì good time credo di sì e poi questa qui che ovviamente è happy birthday con i palloncini cuoricini ed è carinissima ve li mostro anche sul sito queste quattro scritte così vi mostro anche tra virgolette la resa perché ci sono gli esempi effettuati sul cartoncino così vi rendete conto anche del del risultato finale sempre se il telefono mi aiuta eccomi qua quindi thank you valentine day happy birthday e good time davvero molto molto carine la resa finale poi questo è utilizzato anche un cartoncino con una finitura glitterata quindi risultato davvero molto molto carino sono un po grandicelle e vi da anche degli spunti su come poterle utilizzare queste scritte vedete la scritta thank you possiamo utilizzarla anche su una busta da regalo o anche good time e vedete questo cartoncino con la scritta thank you davvero molto carino o anche aggiungendo appunto la scritta thank you su una busta da lettere davvero molto molto veri queste queste bustelline me ne sono innamorata e quindi ho deciso di prenderle adesso vi mostro il secondo prodotto che ovviamente è un'altra bustella quindi questo è il codice del prodotto ed è una fustellina piccola sempre con la scritta thank you ed eccola qua davvero molto carina anche questa forma tonda sempre vari grigori e decorazioni qui c'è un cuoricino davvero molto carina vi mostro anche questa sul sito di bb craft un attimino che si apre la pagina che oggi ho la connessione abbastanza lentina e questo è appunto il risultato su cartoncino con la scritta appunto thank you questo è carino simil tag da poter raggiungere anche le scatoline ed è carinissimo anche questo metto all'interno poi ovviamente li vedrete all'opera con i tutorial poi ho preso un'altra fustellina questa davvero molto molto carina e ve la straconsiglio perché me ne sono innamorata ed è questa fustella per realizzare sempre le buste di carta in questo caso è una busta di carta un po più eleganti e le cantina un po più raffinata e secondo me adatta anche per gli inviti di matrimoni battesimi e quant'altro cioè tutte le varie festività è davvero molto molto carina questo è il codice del prodotto se avete una big shot o una qualsiasi fustellatrice prendetela perché è davvero spettacolare davvero ben fatta e davvero molto bella eccola qua queste sono le due parti appunto per realizzare la busta porta lettere questa è la parte della patta tra virgolette e questo invece la parte frontale della bustina vi mostro anche questa sul sito di baby craft un attimino che eccola qui semplice si ricarica la pagina eccola qua questo è il risultato aspettate che ecco qui mette a fuoco con il risultato appunto effettuato con cartoncino ed è davvero molto molto bella qua vi mostra anche la resa appunto su cartoncino rosa ed è uno spettacolo e questo invece è la visione della busta una volta chiusa davvero davvero bella cioè questa non ha bisogno di varie decorazioni cioè basta solo questa secondo me è uno spettacolo poi volendo si può anche tra virgolette giocare con con il cartoncino lasciando appunto un cartoncino con i glitter in per tutti questi vari grigori e al limite un cartoncino semplice sul retro per andare ad enfatizzare tutti questi grigori della bustina ed è davvero molto molto bella io vi ripeto vi lascio il link in descrizione questo vale la pena prenderla perché è davvero bellissima quindi anche di questa prevede vedrete appunto un tutorial dedicato sicuramente perché non vedo l'ora di realizzarla e poi vi mostro gli ultimi due prodotti in questo caso sono delle fustelle per andare effettuare l'embossing per imbossare e ho preso due due texture diverse una con i codicini e un altro invece con questa carissima decorazione vi mostro questa con i codicini questa è con il codice del prodotto all'interno sono presenti due tra virgolette cartellette passatemi il termine perché adesso non mi non mi sonviene altro per appunto andare ad inserire il cartoncino all'interno per poi poter imbossare il cartoncino si apre in questo modo come dicevo si infila appunto il cartoncino come mezzo modalità panino e poi si passa all'interno della big shot ed è carinissimo il risultato davvero molto molto carino invece l'altra questo è il codice del prodotto in questo caso c'è questa graficissima trama ed ecco qua sono sempre due all'interno stesso discorso si apre modalità libro e questo è l'interno ti mostro anche di questi il risultato sul sito che ci sono sempre degli esempi molto carini e quindi vi mostro anche il risultato finale aspettate che mette a fuoco eccolo qua questo appunto come risulta con i cartoncini con appunto con i codicini il risultato e poi qua vi mostro anche altri esempi su come poterli utilizzare questi una imbossati questi cartoncini questo invece è quello questo qui questo che vi mostravo prima questo è il risultato finale ed è davvero molto molto carino c'è cartoncino con questa con questa decorazione appunto a rilievo con questa scritta cuoricino ed è davvero molto molto carino carino elegante romantico come vi dicevo questi sono i primi cinque prodotti scelti dal sito di baby craft poi seguirà un altro unboxing dedicato appunto altri prodotti scelti sempre dal sito io spero che questo video sia stato di vostro gradimento lasciatemi un like e un commentino io come sempre vi saluto un bacione e alla prossima con nuovi video ciao ciao